Le tigri di Montpracem di Emilio Salgari Capitolo primo Sandokan e Yanez La notte del 20 dicembre 1849 un uragano violentissimo imperversava sopra Montpracem isola selvaggia di fama sinistra covo di formidabili pirati situata nel mare della Malesia a poche centinaia di miglia dalle coste occidentali del Borneo il cielo spinte da un vento irresistibile correvano come cavalli sgrigliati e mescolandosi confusamente nere masse di vapori le quali di quando in quando lasciavano cadere sulle cupe foreste dell'isola furiosi acquazzoni sul mare pure sollevato dal vento surtavano disordinatamente e si infrangevano furiosamente enormi ondate confondendo i loro muggiti con gli scoppi ora brevi, ora secchi ed ora interminabili delle folgori né dalle capanne allineate in fondo alla baia dell'isola né sulle fortificazioni che le difendevano né sui numerosi navigli ancorati al di là delle scogliere né sotto i boschi né sulla tumultuosa superficie del mare si scorgeva alcun lume chi però venendo da oriente avesse guardato in alto avrebbe scorto sulla cima di un'altissima rupe tagliata a picco sul mare brillare due punti luminosi due finestre vivamente illuminate chi mai vegliava in quell'ora con simile bufera nell'isola dei sanguinari pirati tra un labirinto di trincee sfondate di terrapieni cadenti di stecconati di velti di gabbioni sventrati presso i quali scorgevansi ancora armi infrante e ossa umane una vasta e solida capanna si innalzava ad orna sulla cima di una grande bandiera rossa con nel mezzo una testa di tigre una stanza di quell'abitazione è illuminata le pareti sono coperte di pesanti tessuti rossi di velluti e di broccati di gran pregio ma qua e là sgualciti, strappati e macchiati e il pavimento scompare sotto un alto strato di tappeti di persia sfolgoranti d'oro ma anche questi lacerati e imbrattati nel mezzo sta un tavolo debano intarsiato di madreperla e adorno di fregi d'argento carico di bottiglie e di bicchieri del più puro cristallo negli angoli si rizzano grandi scaffali in parte rovinati zeppi di vasi riboccanti di braccialetti d'oro di orecchini di anelli di medaglioni di preziosi arredi sacri contorti e schiacciati di perle provenienti senza dubbio dalle famose peschieri di Cailan di smeraldi di rubini e di diamanti che scintillano come tanti soli sotto i riflessi di una lampada dorata sospesa al soffitto in un canto sta un divano turco con le frange qua e là strappate in un altro un armonium di ebano con la tastiera sfregiata e all'ingiro in una confusione indescrivibile stanno sparsi tappeti arrotolati splendide vesti quadri dovuti forse a celebri pennelli lampade rovesciate bottiglie ritte o capovolte bicchieri interi o infranti e poi carabine indiane rabescate tromboni di spagna sciabole scimitarre accette pugnali pistole in quella stanza così stranamente arredata un uomo sta seduto su una poltrona zoppicante e di statura alta slanciata dalla muscolatura potente dai lineamenti energici maschi fieri ed una bellezza strana lunghi capelli gli cadono sugli omeri una barba nerissima gli incornicia il volto leggermente abbronzato ha la fronte ampia ombreggiata da due stupende sopracciglia di allardita arcata una bocca piccola che mostra dei denti accuminati come quelli delle fiere e scintillanti come perle due occhi nerissimi d'un fulgore che affascina che brucia che fa chinare in qualsiasi altro sguardo era seduto da alcuni minuti con lo sguardo fisso sulla lampada con le mani chiuse nervosamente attorno alla ricca scimitarra che gli pendeva da una larga fascia di seta rossa stretta attorno a una casacca di velluto azzurro a freggi d'oro uno scroscio formidabile che scosse la gran capanna fino alle fondamenta lo strappò bruscamente da quella immobilità si gettò indietro i lunghi inanellati capelli si assicurò sul capo il turbante adorno di uno splendido diamante grosso quanto una noce e si alzò di scatto gettando all'intorno uno sguardo nel quale leggevasi un non so che di tetro e di minaccioso è mezzanotte mormorò egli mezzanotte e non è ancora tornato vuotò lentamente un bicchiere pieno di un liquido color dell'ambra poi aprì la porta si inoltrò con passo fermo tra le trincee che difendevano la capanna e si fermò sull'orlo della gran rupe alla cui base rugiva furiosamente il mare stette là alcuni minuti con le braccia incrociate fermo come la rupe che lo reggeva aspirando sullo sconvolto mare poi si ritirò lentamente rientrò nella capanna e si arrestò dinnanzi all'armonium quale contrasto esclamò al di fuori l'uragano e qua io quale il più tremendo fece scorrere le dita sulla tastiera traendo dei suoni rapidissimi e che avevano qualche cosa di strano di selvaggio e poi si rallentò finché si spensero tra gli scrosci delle folgori e i fischi del vento ad un tratto volse visivamente il capo verso la porta lasciata semi aperta stette un momento in ascolto curvo innanzi con gli orecchi tesi poi uscì rapidamente spingendosi fino all'orlo della rupe al rapido chiarore di un lampo vide un piccolo legno con le vele quasi ammainate entrare nella baia e confondersi in mezzo ai navigli ancorati il nostro uomo accostò alle labbra un fischietto d'oro e mandò tre note stridenti un fischio acuto vi rispose un momento dopo e lui mormorò con viva emozione era tempo cinque minuti dopo un essere umano avvolto in un ampio mantello grondante d'acqua si presentava dinanzi alla capanna Janez esclamò l'uomo dal turbante gettandogli le braccia al collo Sandokan rispose il nuovo venuto con un accento straniero marcatissimo che notte di inferno fratellino mio vieni attraversarono rapidamente le trincee ed entrarono nella stanza illuminata chiudendo la porta Sandokan riempì due bicchieri e porgendone uno allo straniero che si era sbarazzato del mantello e della carabina che portava ad armacollo gli disse con accento quasi affettuoso bevi mio buon Janez alla tua salute Sandokan alla tua vuotarono i bicchieri e si assisero dinnanzi al tavolo il nuovo arrivato era un uomo sui 33 o 34 anni cioè un po' più anziano del compagno era di media statura robustissimo dalla pelle bianchissima i lineamenti irregolari gli occhi grigi astuti le labbra beffarde e sottili indizio di una ferrea volontà a prima vista si capiva che era un europeo non solo ma che doveva appartenere a qualche razza meridionale ebbene Janez disse Sandokan con una certa emozione hai veduta la fanciulla dai capelli d'oro no ma so quanto volevi sapere non sei andato alla buona sì ma capirai che su quelle coste guardate dagli incrociatori inglesi riesce difficile lo sbarco a gente della nostra specie parlami di questa fanciulla chi è ti dirò che è una creatura meravigliosamente bella tanto bella da essere capace di stregare il più formidabile pirata esclamò Sandokan mi dissero che ha i capelli biondi come l'oro gli occhi più azzurri del mare le carni bianche come l'alabastro so che Alamba uno dei nostri più feroci pirati la vide una sera passeggiare sotto i boschi dell'isola e che fu tanto colpito da quella bellezza da fermare la sua nave per meglio contemplarla a rischio di farsi massacrare dagli incrociatori inglesi ma a chi appartiene da alcuni si dice che sia la figlia di un colono da altri di un lord da altri ancora che sia niente meno che parente del governatore di Labuan strana creatura mormorò Sandokan comprimendosi con le mani la fronte e così chiese Yanez il pirata non rispose si era bruscamente alzato in preda ad una viva emozione e si era portato dinnanzi all'armonium facendo scorrere le dita sui tasti Yanez si limitò a sorridere e staccata da un chiodo una vecchia mandola si mise a pizzicarne le corde dicendo sta bene facciamo un po' di musica aveva però appena cominciato a suonare una rietta portoghese allora quando vide Sandokan avvicinarsi bruscamente al tavolo puntandovi sopra le mani con tale violenza da farlo piegare non era più lo stesso uomo di prima la sua fronte era burrascosamente aggrottata i suoi occhi mandavano cupilampi le sue labbra ritiratesi mostravano i denti convulsivamente stretti le sue membra fremevano in quel momento egli era il formidabile capo dei feroci pirati di Montpracem era l'uomo che da dieci anni insanguinava le coste della Malesia l'uomo che per ogni dove aveva dato terribili battaglie l'uomo la cui straordinaria audacia e l'indomito coraggio gli avevano valso il nomignolo di tigre della Malesia Yanez esclamò egli con un tono di voce che più nulla aveva d'umano che cosa fanno gli inglesi a Labuan si fortificano rispose tranquillamente l'europeo forse che tramino qualche cosa contro di me lo credo ah tu lo credi che osino alzare un dito contro la mia Montpracem dia loro che si provino a sfidare i pirati nei loro covi la tigre li distruggerà fino all'ultimo e berrà tutto il loro sangue dimmi che cosa dicono di me che è ora di finirla con un pirata così audace e mi odiano molto tanto che s'accontenterebbero di perdere tutte le loro navi pur di appiccarti ah dubiti forse fratellino mio sono molti anni che tu ne commetti una peggiore dell'altra tutte le coste portano le tracce delle tue scorrerie tutti i villaggi e tutte le città sono state da te assalite e saccheggiate tutti i forti olandesi spagnoli e inglesi hanno ricevuto le tue palle e il fondo del mare è irto di navi da te mandate a picco è vero ma di chi la colpa forse che gli uomini di razza bianca non sono stati inesorabili con me forse che non mi hanno detronizzato col pretesto che io diventavo troppo potente forse che non hanno assassinato mia madre i miei fratelli e le mie sorelle per distruggere la mia discendenza quale male avevo io fatto a costoro la razza bianca non aveva mai avuto da dolersi di me eppure mi vuole schiacciare ora io li odio siano spagnoli o dolandesi o inglesi o portoghesi i tuoi compatrioti io li esecro e mi vendicherò terribilmente di loro l'ho giurato sui cadaveri della mia famiglia e manterrò il giuramento se sono però stato spietato coi miei nemici qualche voce spero si alzerà per dire che talvolta sono stato generoso non una bensì cento mille voci possono ben dire che tu sei stato coi deboli per fin troppo generoso disse Janez possono dirlo tutte quelle donne cadute in tuo potere che tu hai condotte a rischio di farti colare a picco dagli incrociatori nei porti degli uomini bianchi possono dirlo le deboli tribù che tu hai difeso contro le razzie dei prepotenti i poveri marinai privati dei loro legni dalle tempeste che tu hai salvati dalle onde coperti di regali e cento e mille altri si ricorderanno sempre dei tuoi benefici o Sandokan ma dimmi ora fratellino mio che cosa vuoi concludere la tigre della Malesia non rispose si era messo a passeggiare per la stanza con le braccia incrociate e la testa china sul petto a che pensava quel formidabile uomo il portoghese Janez quantunque lo conoscesse dal lungo tempo non sapeva indovinarlo Sandokan disse dopo qualche minuto a che cosa pensi la tigre si fermò guardandolo fisso fisso ma ancora non rispose hai qualche pensiero che ti tormenta riprese Janez si direbbe che ti cruci perché gli inglesi ti odiano molto anche questa volta il pirata stette zitto il portoghese si alzò accese una sigaretta e si diresse verso una porta nascosta nella tappezzeria dicendo buonanotte fratellino mio Sandokan a quelle parole si scosse e fermando con un gesto il portoghese disse una parola Janez parla dunque sai che voglio andare a Labuan tu a Labuan perché tanta sorpresa perché tu sei audace e commetteresti qualche pazzia nel covo dei tuoi più accaniti nemici Sandokan lo guardò con due occhi che mandavano fiamme ed emise una specie di sordo grugnito fratello mio riprese il portoghese non tentare troppo la fortuna sta in guardia l'affamata Inghilterra ha messo gli occhi sulla nostra Montpraceme forse non aspetta che la tua morte per gettarsi sui tuoi tigrotti e distruggerli sta in guardia perché ho veduto un incrociatore irto di cannoni e zeppo d'armati ronzare nelle nostre acque e quello là è un leone che altro non attende che una preda ma incontrerà la tigre esclamò Sandokan stringendo i pugni e fremendo dai piedi al capo sì la incontrerà e forse nella pugna soccomberà ma il suo grido di morte giungerà fino sulle coste di Labuan ed altri muoveranno contro di me morranno molti leoni poiché tu sei forte e tremendo ma morrà anche la tigre io Sandokan aveva fatto un salto innanzi con le braccia contratte per il furore gli occhi fiammeggianti le mani raggrinzate come se stringessero delle armi fu però un lampo si sedette dinanzi al tavolo tracannò ad un sol fiato una tazza rimasta piena e disse con voce perfettamente calma hai ragione Janez tuttavia io andrò domani a Labuan una forza irresistibile mi spinge verso quelle spiagge e una voce mi susurra che io devo vedere la fanciulla dai capelli d'oro che io devo Sandokan silenzio fratellino mio andiamo a dormire all'indomani qualche ora dopo che il sole era sorto Sandokan usciva dalla capanna pronto a compiere l'ardita impresa era abbigliato da guerra aveva calzato lunghi stivali di pelle rossa il suo colore favorito aveva indossata una splendida casacca di velluto pure rosso adorna di ricami e di frange e larghi calzoni di setta azzurra ad armacollo portava una ricca carabina indiana arabescata e da lungo tiro alla cintura una pesante scimitarra dalle impugnatura di oro massiccio e di dietro un cris quel pugnale dalla lama serpeggiante e avvelenata tanto caro alle popolazioni della Malesia si arrestò un momento sull'orlo della Gran Rupe scorrendo col suo sguardo d'aquila la superficie del mare diventata liscia e tersa come uno specchio e lo fermò verso l'oriente e là mormorò egli dopo alcuni istanti di contemplazione strano destino che mi spinge laggiù dimmi se mi sarai fatale dimmi se quella donna dagli occhi azzurri e dai capelli d'oro che ogni notte conturbe i miei sogni sarà la mia perdita scosse il capo come se volesse scacciare un cattivo pensiero poi a lenti passi discese una stretta scaletta aperta nella roccia e che conduceva sulla spiaggia un uomo lo attendeva al basso era Janetz tutto è pronto disse questi ho fatto preparare i due migliori legni della nostra flotta rinforzandoli con due grosse spingarde e gli uomini tutte le bande sono schierate sulla spiaggia con i loro capi non avrai che da scegliere le migliori grazie Janetz non ringraziarmi Sandokan forse ho preparata la tua rovina non temere fratello mio le palle hanno paura di me sii prudente molto prudente lo sarò e ti prometto che appena avrò veduta quella fanciulla ritornerò qui dannata femmina strangolerei quel pirata che pel primo la vide e ne parlò a te vieni Janetz attraversarono una spianata difesa da grandi bastioni e armata di grossi pezzi d'artiglieria di terrapieni e di profondi fossati e giunsero sulle rive della baia in mezzo alla quale galleggiavano dodici o quindici velieri che si chiamavano praos dinnanzi ad una lunga fila di capanne e di solidi fabbricati che parevano magazzini trecento uomini stavano schierati in bell'ordine in attesa ad un comando qualunque per slanciarsi come una legione di demoni sulle navi e spargere il terrore su tutti i mari della Malesia che uomini e che tipi vi erano dei Malesi di statura piuttosto bassa vigorosi e agili come le scimmie dalla faccia quadra e ossuta dalla tinta fosca uomini famosi per la loro audacia e ferocia dei Battias dalla tinta ancora più fosca noti per la loro passione per la carne umana quantunque dotati di una civiltà relativamente assai avanzata dei Daiachi dalla vicina isola di Borneo di alta statura ai lineamenti belli celebri per le loro stragi che valsero loro il titolo di tagliatori di teste dei Siamesi dal viso romboidale e gli occhi dai riflessi giallastri dei Cocincinesi dalla tinta gialla e il capo adorno di una coda smisurata e poi degli indiani dei Bugisi dei Giavanesi dei Tagali delle Filippine e infine dei Negritos con delle teste enormi e i lineamenti ributtanti all'apparire della Tigre della Malesia un fremito percorse la lunga fila dei Pirati tutti gli occhi parvero incendiarsi e tutte le mani si raggrinzarono attorno alle armi Sandokan gettò uno sguardo di compiacenza sui suoi tigrotti come amava chiamarli e disse Patan fatti innanzi un malese di statura piuttosto alta dalle membra poderose la tinta olivastra e vestito d'un semplice sottanino rosso adorno di alcune piume si avanzò con quel dondolamento che è particolare degli uomini di mare quanti uomini conta la tua banda chiese cinquanta tigre della Malesia tutti buoni tutti assetati di sangue imbarcati su quei due Prahos e cedi nella metà al giavanese Girobatol e si va Sandokan gli lanciò uno sguardo che fece fremere l'imprudente quantunque fosse uno di quegli uomini che si rideva della mitraglia ubbidisci e non una parola se vuoi vivere gli disse Sandokan il malese si allontanò rapidamente traendosi dietro la sua banda composta di uomini coraggiosi fino alla pazzia e che ad un cenno di Sandokan non avrebbero esitato a saccheggiare il sepolcro di Mahometto quantunque tutti maomettani vieni Janez disse Sandokan quando li vide imbarcati stavano per scendere verso la spiaggia quando furono raggiunti da un brutto negro dalla testa enorme dalle mani e di piedi di grandezza sproporzionato un vero campione di quegli orribili negritos che si incontrano nell'interno di quasi tutte le isole della Malesia che cosa vuoi e da dove vieni chili da lù gli chiese Janez vengo dalla costa meridionale rispose il negrito respirando affannosamente e che recchi una buona nuova capo bianco ho veduto una grossa giunca bordeggiare verso le isole Romades era carica chiese Sandokan sì tigre sta bene fra tre ore cadrà in mio potere e poi andrai a Labuan direttamente Janez si erano fermati dinanzi ad una ricca baleniera montata da quattro malesi addio fratello disse Sandokan abbracciando Janez addio Sandokan vada di non commettere delle pazzie non temere sarò prudente addio e che la tua buona stella ti protegga Sandokan balzò nella baleniera e con pochi colpi di remo raggiunse i prahos i quali stavano spiegando le loro immense vele dalla spiaggia si alzò un immenso grido e viva la tigre della Malesia